ciao di nuovo ragazzi eccoci qui su how to survive si fai vedere la nuova arma e abbiamo delle anzi anche la tua non è solo la mia arma nuova che belle carabine siamo i carabinieri che battuta squalida ricordo un nostro utente che ormai uno staffer che fa certe battute bellissime tale shepard comunque adesso siamo ci siamo inchinati anche noi all'evoluzione perché in questa giungla piena di zombie non potevamo rimanere con mazze asce armi da fuoco a go go quindi adesso infatti vada come cammino sembra uno zombie anch'io dobbiamo andare verso il vecchio c'è un punto trovato quindi verso qua ancora c'è qualche scimmia all'orizzonte la scimmia più vicina sta vicino a me anzi adesso dietro ma questo è vestito sono vestiti sti zombie c'hanno stile sti zombie ci crede non colpirmi eh già non mi ricordo più come si gioca oh oh aiuta me sto morendo sono morto ma perché sono più aggressivi stavolta perché se hai detto che sei più coglione forse questi che stanno vestiti così stearpunk dai non ce la fai stai messo peggio di me stavi eh ci provo 5 3 vai vai avanti così così mi 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 alzi eh è quello che sto facendo stai tranquillo vedi che tattica dove sto dove sto lì lì ecco che hai fatto adesso più stupido di quanto pensassi a questo punto proviamo qua oh cazzo ti però te sei un suicida gai dà eh vabbè poi mi perché ho voluto ammazzare questi qui poi mi rialzi tu l'avevo visto che mi stava sparando che mi adesso uccidimi ti prego non quella che sarà fatto ok si riazzami questo non so grazie andiamo andiamo ok aspetta fammi pia un po' di proiette ok vai 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 aspetta e dai non mi fa pia la carabina per favore carica carico ma è morta hai visto no non è morta ecco hai visto come si fa si si ora è morto allora siamo vicini ecco qua la trova dei blocchi e mannaggia oddio si avvicinano la notte ecco infatti dobbiamo sbrigarci perché sennò arriva anche qualche altro animale zombie citazione per i cervi oddio no oppure qualche altro grosso mostro in mondo che non avete potuto vedere purtroppo nel video scorso vabbè ma io come uno scemo non c'ho la luce eh e metti la luce perché da questo questo qui è buggato vabbè no io vedo è diverso ma ognuno vede come cacchio gli pare qui c'è l'aereo ecco c'è l'aereo aggiungi l'isola della sognada ah torniamo indietro quindi torniamo indietro alla sognada eh ma non l'abbiamo visitata tutta quella eh sì però alcune parti erano bloccate adesso seguiamo la trama principale qualcosa c'è la trama tra virgolette principale qui è ad aiutare gente che non so perché in attesa del giocatore non credo ci succede aspetta aspetta vediamo subito e che cavolo ci sono costi dobbiamo tornare dal vecchio spazio con i che quando aspetta di qua un po' cosa qualcosa di mandato mangiare non è che è meglio salvare qui ma è che è salvato o dormiamo dormiamo chiudiamo che stai chiesto non è non è stato o a xp io di qua c'è la barca che ci porta subito dal vecchio mi ricordi ah già vai per il tattucco sui rega facciamo subito perché altrimenti ci dobbiamo fare la strada eh sì non siamo mica matti qua purtroppo i zombie si respawnano quindi e ci siamo c'è anche la scimmia ma questa non so come cucinare i fish and chips perché non c'ho le patatine i pesci ce l'ho ma allora eccolo qua il vecchio stampelluto parliamoci ben fatto amico questa volta la batteria sembra a posto ora la provo che è carica oggi l'ho fatta una manca andiamoci 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 sto impazzendo questo Andrew è un pilota ci devi andarcene qui no che palle ah madonna mia sto vecchio c'ha l'alzheimer pure ti ho ricordato che Andrew era un pilota spero che sta salvando un tipo allora sta salvando e vuole un'altra missione del bastam ciao un'altra missione del vecchiaccio cosa vuole stavolta ok ha avuto l'illuminazione Kovac oddio maledizione trova Kovac che pari no dove è che stava dobbiamo tornare indietro c'è un po' di backtracking adesso bisogna tornare sull'isola di Kovac non so quale sia comunque forse è lo striscos forse è la prima isola sì o forse era quella dove abbiamo fatto ti ricordi la sopravvivenza c'erano tutte è la seconda isola lo striscos che cavolo oddio guarda qua che c'è il cadavere di qualcosa di nuovo te lo ricordi dobbiamo andare sopra dobbiamo andare andiamo sopra io ancora seguo le vecchie tradizioni con Ash oh che cavolo ci siamo avuti si o no eh no però adesso andiamo oh guarda chi c'è adesso l'evoluzione ma cazzo ho visto come sempre l'evoluzione oh oh caffaculo t'ho salvato insomma è sempre sto muo oh beh la barra si è riempita via via che insolente essere no no vieni qui vieni qui è forte la carabina rispetto agli altri si i marines adesso siamo diventati guarda che casino guarda che casino questo qui mi segue da prima ok vai Andrew dove sei si chiama Andrew? Kovac Andrew Kovac di qua dobbiamo andare oh mio dio esplodete e vaffaffica ok grazie per esserti preso l'esplosione Gaetano sempre rispondi no no mi sono sono uscito ad evitare oh guarda questo quanti cavolo ci stanno sti maledetti lo specchio sei qui ok niente niente oh dai esplodi esplodi fatto notte notte è molto oscura dai vediamo un po' di munizioni che ci servono c'è la barca per andare sull'isola di Kovac vai vado io sempre si la vendita salvataggio papapà la vendita non potevamo andare direttamente da da lì a quest'isola no 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 che cavolo ci stanno le barche apposite per ogni isola sento dei rumori scimmieschi ma che fa come va c'è tutta sta vita ma sta ah c'è una nuova scimmia parla un po' perché sto così ciao 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 vabbè koko vede nuovo grande tesoro luccicante brrr pianta già luccicante brrr perfetta per casa di koko ma koko ha paura molti animali zombie vicino a pianta luccicante sopravvivente aiuta koko prendi una pianta dorata dal rifugio quindi portala a koko e aspetta due secondi che devo combinare una cosetta ecco andiamo sì ma sta pianta luccicante dal rifugio è un gazz un gazz oh oh si sta bloccando un po' vabbè ti vedo andiamo 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 da dove non so dove andiamo la pianta luccicante non so dove sia andiamo a parlare qua c'è un'altra scimmia parliamo anche con questa magari le missioni le facciamo via via vieni qui ah di qui eccola ehi due scimmie ciao 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 vabbè koko ha ancora fame eeeh poi c'è una pianta bacca speciale ah ce l'abbiamo sì ce l'ho io e voi continuiamo ecco ma che vuoi vorrei pianta koko da grande premio ai raggiornati a te funghi molto preziosi ma che ci servono i funghi velenosi ci ha dato sta scema scimmie ma che servivano quelli e poi io li avevo trovati non servivano a niente vabbè sta salvando io ho fatto le sue sì sì abbiamo fatto almeno la missioncina per la scimmia ai ai am ho dato da mangiare la scimmietta ai chi sta eccolo il bellimbusto vai parla con Kovac ma mi dice prendi raffreddamento ma ciao come andate il viaggio a santa barbara bene missione completata adesso dobbiamo convincere Kovac mazza perché completiamo la missione sta parlando di nuovo aspetta stiamo in continuazione sono connessi in maniera paventosamente brutta parliamo ora ho un sacco da fare il silo perfettizzato ha bisogno di manutenzione ecco come per cosa che ne pensi di andare ora puoi far sapere che il resto del mondo è a posto comunque non cambia niente non sono un pilota qui posso aiutarti a stare al sicuro guarda cosa ha prodotto la mia ingegnosità non finisce di stupirmi è incredibile cariche esplosive bellissimo pendi una bottiglia riempiti la di benzina aggiungi un pezzo di stupino ah molotov le molotov buone ah fertilizzante e fare esplosive ah io ho le bottiglie mi stai a fabbricare una carica esplosiva producina una e mostra la kovac ok allora te stai morendo di sete che hai età si proprio in una maniera impressionante bevi bevi subito che stai morendo io intanto non so se hai una bottiglia le ho tutte piene di acqua si tutti piene di acqua io c'ho il gatto morto qua lascio il gatto morto qui nel frattempo mangio sta porcheria così tanto per non te la posso dare? hai l'inventario pieno? si che ce l'ho pieno sto cercando di svuotarlo ma ho combinato qualcosa bistecca ai funghi è come morire e andare in paradiso fammi più cento ma che cazzo stai a cucina sei diventato un gourmet oh io devo togliere il tubo non ce la fosse va bene eccola fatta fatta ok ok Gaetano ci sei? si ce l'ho mi dica ce l'ho stavo facendo dell'altro stavo combinando rove ho fatto la bomba oh ce l'hai? fammela vedere si però qua c'ho gatti morti te la do a te? no no te la tu te l'ho data vai ok ma questa come l'equipaggio non lo so la metti nello slot sotto immagino vabbè vieni dobbiamo namo namo dai che poi chiudiamo tra poco vediamo tra poco ti vedo stavo facendo niente mi dice in attesa del giocatore ok parliamo con Kovac vai parla è tua grazie potresti anche distruggire le mie recensioni ah le recensioni ho capito la riparerò non vorrei che annegassi durante un viaggio tra le isole non dovrebbe volerci molto ascolta se vuoi davvero andarti nella mia isola prendi la barca d'emergenza e ovest decidi tu ok andiamo a prendere la barca hai ricevuto carica esplosiva quindi che dovremmo fare mo adesso dovremmo salire si oh quindi dovremmo salire ad ovest e prendere la barca d'emergenza per andare per tornare indietro comunque mi sa che ce l'hai tu la la cosa te l'ho datata a te si ce l'ho io hai fratellizzato il chimico serve eh prendilo dai fai scuola ma si vediamo se si può no non si può combinare ah però utile per produrre bombe quando ho mescolato con altre sostanze quindi potrebbe servire per dopo dai va bene dai questa puntata è stata un po' così meno d'azione però abbiamo scoperto come craftare bombe e dalla prossima vi faremo vedere i fuochi d'artificio già si va bene ragazzi ci vediamo naturalmente commentate condividete sui social eccetera ascoltate la saggezza di iscrivetevi al canale youtube visitate il sito vabbè basta bravo sei sempre un abili oratore ok ragazzi ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 Grazie a tutti.